Musica Da Gianandrea Pisani, accanto a lui Simone Brachi e questa è una Peugeot 208 Entriamo nel campionato italiano, due ruote motrici in questo caso, come va? Va bene, benissimo, è un piacere essere qua Musica 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 siamo riusciti a fare la differenza 3 su 3 direi che è un buon bottino in campionato diciamo che in confidenza possiamo parlare di quello che ci eravamo detti a camera spente appunto come dicevamo prima e non hai fatto altro che confermare questo stato di forma che avevi già dimostrato ad Alpo e quindi per questo vanno a te i nostri complimenti e grazie grazie a voi, davvero a grazie a Simone per questa seconda collaborazione insieme è stato bravissimo e dopo questo brindisi noi riprenderemo immediatamente deve essere soltanto spostato in podio perché e grazie a tutti grazie a tutti